Gli atleti vincitori dei campionati italiani FICEC, Federazione Italiana Cheerleading e Cheer Sport e dei campionati europei EQ 2022 sono stati premiati a Palazzo Lascaris con un riconoscimento speciale del Consiglio regionale. La cerimonia è stata l'occasione per ripercorrere i momenti più emozionanti della stagione 2022 e per premiare, oltre agli atleti, anche lo staff tecnico della squadra di Special Cheer. Presenti alla cerimonia i vicepresidenti del Consiglio Francesco Graglia e Daniele Valle e i consiglieri segretari Ivano Martinetti e Michele Mosca. Aver visto oggi tutti questi ragazzi orgogliosi di essere premiati, orgogliosi di essere qui in una sede istituzionale, sentirsi protagonisti per qualche minuto, per qualche ora, personalmente mi ha aperto il cuore e dovremmo avere più spesso questi momenti perché è un quadro di colori in un mondo grigio. Era il 2019 quando l'associazione Le Nuvole di Fossano, che riunisce ragazzi con disabilità provenienti da tutta la provincia, decide di affrontare una grande avventura, cimentarsi nelle cheerleading, vera e propria disciplina sportiva riconosciuta come tale anche dal Comitato Olimpico. Lo scorso giugno 2022 l'associazione sportiva ha partecipato a Verona ai campionati d'Italia di Special Cheer, ottenendo il primo posto del group stunt della categoria Special. A luglio 2022 gli atleti hanno preso parte agli europei di Atene, qualificandosi campioni d'Europa. Il prossimo obiettivo è andare ad Orlando nel 2023 dove si svolgeranno i mondiali e speriamo ovviamente di tornare a casa con un'altra medaglia che loro si meritano per quello che fanno per questo sport.